Giovani lavoro Green Economy, queste le tre parole chiave del progetto Green Generation presentato presso la Mediateca Marte di Cava dei Tirreni. Si tratta di un'iniziativa volta a favorire l'occupazione giovanile offrendo stage formativi, corsi specializzanti, attività nelle scuole, viaggi all'estero, aperitivi culturali e un osservatorio sulle professionalità green. Le attività in programma si articoleranno in provincia di Salerno durante i 18 mesi di progetto e coinvolgerà oltre 400 neolaureati senza occupazione, 20 giovani imprenditori e 1.200 studenti delle scuole superiori. Una straordinaria occasione per entrare nel mondo del lavoro grazie alle nuove opportunità offerte dalla Green Economy, come ci spiega il coordinatore delle attività di progetto Attilio Palumbo. Green Generation è un progetto cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Ci hanno dato questa opportunità per fare 18 mesi di attività sul territorio, attività che avranno l'obiettivo di aiutare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Farlo, fare questo attraverso una chiave di lettura ben precisa che è la Green Economy. Abbiamo completamente finanziato dal Dipartimento un corso di formazione di 250 ore per giovani laureati senza occupazione per aiutare tutti loro a inserirsi nel mondo del lavoro grazie anche a uno stage che faranno presso 20 aziende che avranno precedentemente fatto un altro corso sempre finanziato dal Dipartimento, rivolto proprio agli imprenditori, ai giovani imprenditori per far capire loro le opportunità anche che il Green Marketing, che insomma la Green Economy in generale può offrire loro per rivalutarsi e per aumentare anche gli utili e i profitti di un'azienda. Come potranno usufruire i ragazzi coinvolti di queste attività proposte da Green Generation? Apriremo a giorni un sito web jovenigreen.it dove saranno raccontate tutte le attività e come interagire con la segreteria di Green Generation e quindi col progetto in generale siamo già attivi con una pagina Facebook che appunto porta il nome Green Generation e anche su Twitter insomma i giovani attraverso degli avvisi pubblici che usciranno col tempo e che saranno anche pubblicati sul sito dei partner conosceranno insomma tutte le attività che andremo a porre in essere quindi molte possibilità di interagire con tutti noi.